L'operazione GoFly interesseranno gli hangar, la recinzione, i palazzi circostanti e l'adeguamento alle normative di sicurezza e antincendio. Verso l'estate, senza intoppi, potrebbero già partire i lavori. Fondamentale è far decollare l'aeroporto. Abbiamo fatto un'operazione che si chiama operazione GoFly, che ha tanti significati, ma fondamentalmente è questo. Prima di tutto facciamo in maniera che la gente possa volare e facciamo in maniera che la gente sia tranquilla e trovi dei servizi pronti per il volo. Dopo tutto il resto verrà di conseguenza.